Con questo video voglio parlarvi di divisione con resto tra due polinomi. Mi occuperò del caso della divisione tra due polinomi in un'unica variabile, sia x, y, z, quella che vi piace. Intanto vi ricordo che un noto teorema afferma che dati due polinomi in una variabile a e b, con b come polinomio diverso da zero, esistono sempre e sono unici due particolari polinomi chiamati q ed r, tali che sia rispettata la seguente identità, cioè il polinomio a può essere scritto come q per b e poi sommato r. r viene detto resto della divisione del polinomio a per il polinomio b. r può essere zero o in generale un polinomio di grado inferiore rispetto al grado di b, q invece si dice quoziente. Ovviamente se il resto è zero, a è esattamente divisibile per b. Naturalmente vado ad esaminare il caso in cui a abbia grado maggiore o uguale a quello di b. Uno si può chiedere, beh, non è possibile eseguire la divisione nel caso in cui a abbia un grado inferiore rispetto a quello di b? La risposta è sì, è possibile, ma ovviamente ci va a ricadere in un caso banale, è quello in cui il quoziente va a essere zero e il resto è esattamente pari al dividendo, cioè ad a. Quindi a può essere scritto direttamente come zero volte b più a. Vediamo però un esempio di divisione tra due polinomi. Ho scelto il polinomio 4m alla quarta meno 2m alla terza più 3m più 2, polinomio di quarto grado nella variabile m. Qui è già scritto come polinomio ordinato. E' sempre buona norma scrivere i polinomi ordinati, quindi in ordine per grado rispetto alla variabile con cui si sta operando, a cui si fa riferimento. E il divisore è 2m alla seconda più 1. In questo caso il grado di a del dividendo è 4, il grado del divisore è 2. Vado alla ricerca quindi del quoziente e del resto. Una volta individuati quoziente e resto, il resto potrebbe anche essere zero, potrò riscrivere, visto l'algoritmo Clideo della divisione, il dividendo come quoziente per divisore più resto. Vediamo la divisione vera e propria. Comincio con impostare una tabella, adesso qui la vedete tutta completata ma vi spiego i passaggi. Nella tabella vado a riportarmi qui a sinistra il dividendo. Manca nel mio caso del termine di secondo grado in m che indico per ragioni di ordine, per ragioni di spazio e di incolonnamento dei termini simili. Dei termini quindi dei monomi che hanno lo stesso grado. Quindi lo riporto qui a sinistra. Cioè qui a destra il divisore. Eseguo la divisione tra 4m alla quarta, quindi il primo monomio del dividendo, rispetto al primo monomio del divisore, sempre se scritto in ordine. 4m alla quarta diviso 2m alla seconda. Ottengo 2m alla seconda. Con questo unico 2m alla seconda vado a eseguire il prodotto tra 2m alla seconda e il divisore. Quindi 2m alla seconda più 1. Il risultato di questo prodotto lo andrò a scrivere cambiato di segno al di sotto del dividendo. Quindi 2m alla seconda per 2m alla seconda da 4m alla quarta. Cambiato di segno, meno 4m alla quarta. 2m alla seconda per 1, meno 2, fa più 2m alla seconda, che scrivo cambiato di segno. Notate l'incolonamento, come dicevo, i due termini di secondo grado. Vado a eseguire la somma algebrica in colonna. Non ho più termini in m alla quarta, meno 2m alla terza rimane tale, 0m alla seconda meno 2m alla seconda meno 2m alla seconda e riporto 3m più 2. Notiamo che questo polinomio di terzo grado ha grado maggiore o uguale del divisore. La divisione quindi non è conclusa. Tratto questo polinomio come nuovo dividendo e vado a proseguire, come prima, come sopra. meno 2m alla terza diviso 2m alla seconda da meno m. Prendo meno m e lo moltiplico per i due termini del divisore. Quindi meno 2m per 2m alla seconda da meno 2m alla terza. Lo scrivo cambiato di segno. Meno m per più 1, meno m. Cambiato di segno, più m, scritto volutamente sotto il termine 3m con lo stesso grado. Eseguo la somma algebrica. I termini in m alla terza vanno via, meno 2m alla seconda viene riportato, 3m più m da 4m e riporto il più 2. Grado 2. Questo non è ancora il resto, perché in questa posizione andremo a ritrovare il resto. È di secondo grado. Un secondo grado è ancora divisibile per questo binomio di secondo grado. Quindi proseguo con la divisione. Quando mi andrei ad arrestare nel mentre, che trovo, che il possibile nuovo dividendo ha grado inferiore rispetto al divisore. Quindi in questo caso proseguo. Come sopra. Meno 2m alla seconda diviso 2m alla seconda mi dà meno 1. Non tocco gli altri termini, eseguo il prodotto. E poi cambierò di segno. Meno 1 per 2m alla seconda, meno 2m alla seconda, cambiato di segno, 2m alla seconda. Meno 1 per più 1, meno 1, cambiato di segno, più 1. A questo punto somme algebriche in colonna. Meno 2m alla seconda, più 2m alla seconda, nulla, zero. Riporto il 4m più 2 più 1 più 3. Questo potenziale nuovo dividendo in realtà è resto. Perché è di primo grado? Essendo di primo grado è di grado inferiore rispetto al divisore. Quindi arresto la mia divisione. 2m alla seconda, meno m, meno 1, è il quoziente. 4m più 3 è il resto. La divisione è così conclusa. Vado a prendere, a questo punto vado a riscrivere tutto il... A riprendere l'algoritmo clideo della divisione. Riscrivo quindi il dividendo come quoziente per divisore più resto. State attenti perché manca, e me ne scuso, una parentesi tonda prima dell'inizio del quoziente e dopo il quoziente. Quindi 2m alla seconda, meno m, più 1, vanno tra parentesi tonde. Perché tutto il quoziente come polinomio deve andare a moltiplicare il divisore. Con questo esempio si conclude questo video. Vi ringrazio ovviamente per l'attenzione. Spero di esservi stato utile perché comunque questo argomento tende a essere ostico. E in ogni caso è un argomento importante perché anche solo pensare al calcolo dei limiti o come si può in tanti casi andare a studiare le funzioni razionali fratte ricorrendo alla divisione tra polinomi, procedendo in questo modo ci si può alquanto semplificare la vita nel risolvere questo tipo di esercizi. Quindi non trascurate mai questo argomento e assicuratevi di saperlo controllare, di saperlo conoscere. Vi ringrazio nuovamente, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.